Serie A 1983-84, ventiquattregima giornata, grandissima rimonta del Milan in casa della Fiorentina. I rossoneri, in enorme difficoltà per tutta la gara, strappano un punto preziosissimo in terra toscana contro il team di Picchio De Sisti. La viola esegue il doppio sorpasso nel primo tempo grazie alle marcature di Lele Oriali e di Daniel Passarella su calcio di rigore. In seguito il team Lombardo, dopo essersi divorato un gol con Luther Blissett, rimette le cose in parità grazie alla freddezza di Carotti dagli 11 metri e alla staffilata da fuori area di Andrea Icardi che fissa il punteggio sul definitivo 2-2.